appassionati di gossip e tv bentornati nel mio canale un grande classico del collegio sono le espulsioni probabilmente uno dei momenti preferiti del pubblico a dover lasciare anzitempo il 1958 è stata victoria lazzari 15 anni colpevole di aver insultato uno dei professori il preside rientrato in collegio non ha potuto far altro che comunicare alla ragazza al provvedimento senza perdere tempo infatti ha deciso di comunicarglielo direttamente in classe victoria non ha potuto far altro che salutare i compagni e varcare per l'ultima volta il cancello accompagnata la sorvegliante non prima di aver indossato nuovamente i suoi abiti civili i suoi compagni hanno sostanzialmente trovato giusta l'espulsione nessuno ha protestato e quasi nessuno l'ha giustificata e voi che ne pensate siete dispiaciuti per l'espulsione di victoria fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale al prossimo video ciao